Dopo aver fatto studi di recitazione, dizione, canto e ballo, esordisce in televisione nel 1998 quando a fianca, per due puntate, Paolo Bonolis nella conduzione di Tira & Molla. Si laurea intanto in sociologia e prende parte ad alcune pubblicità sulle emittenti nazionali. Nel 2003 vince il concorso di MTV Cercasi VJ, che le consente poi di lavorare come conduttrice per la stessa emittente musicale delle trasmissioni Dance Floor Chart, Special Sunday e poi, durante l'estate 2004, MTV On The Beach, successivamente lavora come attrice. Al cinema compare nel film cronaca di un assurdo un normale, mentre in televisione nel cast di numerose fiction, Distretto di Polizia 6, 100 vetrine, Carabinieri 7, Don Matteo 7, tutti per Bruno e un matrimonio.